Raga, questa ragazza riesce a muovere gli occhi in qualunque direzione, facendogli fare qualsiasi movimento, raga, riesce persino a ruotarli, ma come si fa? È impossibile. Ma guarda che schifo, raga, ma è una roba bruttissima. Io non ho idea di come si possa fare una cosa del genere, mia mamma riesce a storgerli da destra e uno sopra, non so come fanno, però è una cosa orribile. Cioè, lei è fichissima, ok, è bellissima. La cosa che fa con gli occhi è molto macabra, molto brutta. Oh mio Dio, ma come cazzo fa? Acuna patata ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di H.Ciccio Gamer. Questa ragazza sta per fare qualcosa di assolutamente erotica. Immaginatevi di essere a letto con una ragazza che riesce ad avere questa apertura all'aria delle natiche, delle gambe, della patatina. Comunque sì, raga, è un record incredibile. Quanto è alto? Sarà 20, 25 cento, è tutto un doppio senso il mio canale. Attenzione, ok, fin qui non ho visto nulla di... Ah però! Questo qui lo so fare anch'io, ma sott'acqua in piscina. Posso fare le capriole, sott'acqua in piscina. Si è tolta il piercing questa giovinciola bellina. Ma che cazzo... Raga, raga! Praticamente si è tolta il piercing, ha infilato buono spaghetto, non so cosa sia, e lo risucchia dal buco! Un altro doppio senso. Lo risucchia dal buco. Però raga è inquietante sta cosa. Però potrebbe essere utile, se il buco fosse più largo potrebbe risucchia... Mi dissocio, scusate. Ma va questo qui, raga, sta ballando con le clavico... No, come cazzo... Con le scapole! Con le scapole! Cioè, le scapole ballerine! Se ci metti la mano dentro, te la schiaccia. Non so, a caso non hai lo schiaccianoci, chiami lui, arrivi e... Tac! Un colpo di scapola e apre tutto. Alto doppio senso. Raga, ha fatto una borsetta coi capelli! Cioè, una borsetta, nel senso, ha fatto la forma di una... È di una lampada. Ma che cazzo talento è? Ma che talento è? Oh! Riesce a fare anche un perizzo... Un bambino, bello. Comunque, è molto creativa. Sicuramente avrà 200 miliardi di views su TikTok. E questo invece sono io. Questo sono io che mi sto preparando. Questo qui è il mio antipasto al McDonald's. Infilarmi un hamburger in bocca, un bel Big Mac. Tranquillamente. E poi passo al vero e proprio menù. Viva la fica, ha detto. Riguardiamo? Viva la fica. Un'altra volta, raga. L'ultima volta, raga. Viva la fica. Ok. Abbiamo Billie Eilish che riesce a snodare completamente... Oddio, se lo faccio io mi esce tutto. Mi esce la spalla, la clavicola. E abbiamo l'uomo cane. È l'uomo cane che corre contro il male. Come fa? Come cazzo? Come fa? È una cosa bruttissima. È orribile da vedere. Ha anche saltato, raga. Cioè, è un coniglio. Non è un cane. È un canin... È un caneglio. Un... Canaglia. Canaglia. Oh, passiamo al prossimo video. Oh, questo qui sono capaci tutti a farlo. A disegnare con due... Con tutte e due le mani. E a fare anche dei ritratti fatti bene, vero? No, sei... Sei s*****o tanto quanto me. Tu che stai guardando il video in questo momento e che sei appena iscritto al canale, hai messo like, hai attivato ogni campanella. Anche quella della scuola... No, quella disattiva, quella della scuola o del lavoro. Ma noi due non sappiamo fare quello che sta facendo costui. È impossibile per noi. Neanche tra diecimila anni. Questo invece sì. Giocare con il proprio Wurstel. Se sei un uomo. Se sei una donna sei altrettanto brava a giocare con Wurstel. Tra l'altro questa tecnica vendono delle penne apposta. Si dovrebbero chiamare speed finger, finger speed, speed pen, finger speed pen, una roba del genere. Ed è fighissimo perché se te sei a scuola, a lezione, hai questa penna e ti eserciti, ci sono i tutorial proprio, inizi a far girare la penna così in un anno scolastico. Che tanto lo sappiamo entrambi che tu non ascolti un c***o. La fai girare tipo come negli anime. Super Saiyan penna! Che ore sono? Le nove? Le otto? Le sei? Se arriva a zero raga me la sposo. Sei cinque? Quattro? Oh guardate l'apertura! Guardate! Guarda! Oh ha fatto una puzzetta! Ha fatto una puzzetta raga! Ha fatto la puzzetta! Risentiamo? Guarda quando arriva al tre fa la puzzetta. Avete sentito? Era il due! Tra il tre e il due ha fatto la puzzetta! Posso dire che me la sposerei? Chi è che non se la sposerebbe? Una che ha questa capacità innata di poter fare l'orologio. E non perché riesce a aprire le gambe così tanto. Solo perché fa l'orologio. Arriviamo a 20.000 like per favore in questo c***o di video. Dai! Cosa vi costa? Guardate che cacchio di apertura alare che c'ha questa ragazza! Ok? Oddio raga! Ma che cazzo è questo video? Ma cosa sta diventando? Guardate! Ma raga ma il mio coso me lo divor... Oh! Anche lei! Ma... Cioè... Allora la cinesina è un po'... Cioè nel senso è arrapante... Ma è anche un po' inquietante. Perché... Perché sembra che sta... Si sta mettendo in bocca il coso di un alieno. La bionda invece... Beh la bionda... La bionda è esperta. La bionda è molto esperta. Malena nazionale di radicua e la bionda. Se avessi avuto la metà del talento... Sarei diventata la più grande attrice ose della storia. Ma questo malena non lo diventerà mai. Questa... Questa però è un'altra storia. E iscrivetevi al canale di Haka... Immediatamente. Ok Eminem? Attenzione! Eminem si sta per dare due pugni in faccia. Due pugni in faccia! Sembra un mix travolverine! Ma che... C'ho visto! Questa è una delle hacagate più grosse... Ma una delle hacagate più grosse... Della storia! Ma... Ma cos'è? Ma poi come... Aspetta... Aspetta, 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 aspetta... Aspetta, aspetta... Ok, ok, ci sono, ci sono, ci sono... Guardate, guardate... E' un fortissimo, cazzo! Ok, è arrivato il momento di mangiare un po' di ramen di Naruto. Let's go! Si parte! Oh, ma questa è la stessa scena di Goku nell'anime! Fa come Goku! Guarda! Ce l'ha finito in 13 minuti e 26 secondi! Un nuovo Guinness World Record! Però non avete mai visto me dopo una serata! Perché se vedete me dopo una serata in discoteca, prendete paura! Io posso mangiarmi tutto quello che lei ha lì sotto gli occhi in 13 secondi e 26! Grazie! Grazie a tutti! Solo gli psicopatici riescono a farlo! No, vabbè, che cos'è? Sembra un imbecilo insieme a lei! Dai, siamo palesemente due imbecilli, non due psicopatici! Io vorrei che mia mamma la mattina sta così e io mi sveglio capriola volante, tac, carpiato e mi vesto così! Come se fossi Superman, che lui si gira nella cabina e diventa Superman! Invece io faccio la capriola e sono già vestito! Il più veloce al mondo a pulire! A te ce le parte! Nessuno lo può fermare! Ta 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 ta! Guarda, 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 guarda! Guarda, 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 guarda! Tutto, tutta, flash! Via, spruzzare, via, spruzzare, metti la cera, togli la cera, metti l'aceto, togli l'aceto, metti... Oddio, ragazzi, vabbè, ma non è che c'è un... Ok, qual è il tuo talento? Lo fai? Pallo! Mi sta palesemente mandando affan***o con quel dito! Raga, ci sta mandando affan***o con quel dito! Noi gli rispondiamo con 50.000 like, ora, vai! Ma mettete sti c***o di video nel canale quello lì azzurro, avete presente, avete capito quale, no? Non mettetelo qui! Perché? Non fate neanche i soldi su queste cose! Ma poi mi arriva la vostra puzza da qua!